Perché sopra ogni cosa, quello che devi sviluppare è la consapevolezza che sei costantemente osservato, che sei costantemente guardato. Questa è la grossa differenza tra la gente del primo mondo e la gente in cielo. La gente in cielo vede con gli occhi permanentemente la luce divina di sopra di loro. E la luce divina è una vita, è un'incarnazione di amore, di sabbia, di pazza, di gioia, di tutto. E ti parla. Comunica con te e dice sono con te tutto il tempo, non puoi essere più vicina di così. Do you remember when we were in Spain and we were looking to the seaside? I said to you, God is as close to you as the sky now to the seaside. Yeah, you remember? And it was like foggy, or I don't know, it was like touching the water. And this is how it is. God touches you everywhere. E così, Dio ti tocca ovunque. You understand? And so the sheik also touches you everywhere. E quindi anche lo sheik vi tocca dovunque. Because he represents the divine on earth, that's what he does. Perché rappresenta il divino sulla terra. That's his title. Questo è quello che fa il suo titolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.